Quarto grado, la mamma di Pamela, troppo, in tv ed è polemica sui social Intanto svolta sul caso per un'intercettazione di Osei l'Alessandra Verni, la mamma di Pamela, la diciottenne brutalmente uccisa e poi ritrovata in una valigia, è infatti apparsa nella puntata di quarto grado andata in onda il 9 marzo Se la Scampini si è a lungo prodigata sul coraggio della donna, va detto che il web non è stato altrettanto clemente con la donna, accusandola spesso di voler solo apparire Quarto grado, è lei lettera della nonna di Pamela Mastropietro in particolare, su Twitter, molti utenti si sono interrogati sulla presenza più o meno opportuna di Alessandra in televisione, puntando il dito contro la donna, reputata fin troppo esibizionista La riflessione diventa poi generale, ma l'accusa resta ferma, troppa tv, troppo uso dei social da parte di genitori affranti vengono mal visti dal mondo del web, ma c'è anche qualcuno che difende le, mamme coraggio, giudicare il dolore, del resto, non è mai semplice Intanto, ci sarebbe una svolta, proprio sul caso di Pamela Mastropietro Il resto del Carlino riferisce infatti, che Vincent Oseil, il principale indagato per, l'avrebbe confessato in una intercettazione di essere l'unico colpevole In carcere avrebbe infatti dichiarato alla compagna, l'ho uccisa io Pamela, ho fatto tutto da solo Gli inquirenti stanno ovviamente approfondendo, guarda la fotogallery